Ultimo turno della pool promozione di A2 per il Volley Soverato che si appresta ad ospitare Ravenna nell'ultima giornata per conquistare questo fatidico punto che vorrebbe dire qualificazione aritmetica ai playoff Coach Bruno Napolitano sicuramente una partita importante per coronare innanzitutto quella che è stata un'ottima stagione quella del Volley Soverato Ma sì, guarda, ci teniamo tantissimo a questo ingresso nei playoff più che altro perché significherebbe essere entrati nelle prime otto squadre del campionato che secondo me di suo significherebbe veramente aver fatto un percorso splendido Certo che questo ingresso è diviso da questo punto che dobbiamo cercare di conquistare senza contare ovviamente sul risultato delle altre partite laddove sicuramente in due punti siamo in quattro per tre posti però credo, come ho detto alle ragazze, che sia importante veramente concentrarci sulla nostra partita e giocare per vincerla e quindi garantirci noi l'ingresso in questi playoff Analizzando la sfida di domenica prossima che ricordiamo si giocherà a Palmi alle ore 17 il Ravenna non ha più nulla da chiedere a questo campionato perché non può più conquistare l'accesso ai playoff ma come insegnano tutti gli sport di squadra sono proprio queste le partite più insidiose perché Ravenna non avendo più nulla da perdere arriverà qui per giocare la sua partita quindi il Soverato dovrà essere molto concentrato e approcciare bene alla gara Guarda, io da questo punto di vista, sulla base proprio delle esperienze che ho avuto nel mio passato la prima cosa che ho detto alle ragazze al video di mercoledì è che non pensiamo minimamente di non pensare minimamente che Ravenna venga qua a regalarci la partita Ravenna ha una squadra fatta da giocatrici esperte, campionesse che sono tali perché sicuramente non amano perdere quindi verranno a giocarsi la partita e se la giocheranno nel miglior modo possibile per cui lungi da noi sarebbe l'errore più grave che potremmo commettere quello di pensare che Ravenna viene qua in qualche misura con l'idea di farsi la gita sicuramente, voglio dire, loro non hanno più niente da chiedere e questo significa che potrebbe in qualche modo valere una maggiore motivazione da parte nostra purtroppo solo le motivazioni non bastano perché poi la partita va giocata con la tecnica, la tattica e quindi significa che dobbiamo raccimolare veramente quelle che sono le energie in questo momento rimaste entrare in campo concentrate, giocare veramente palla su palla perché credo che siano loro stesse le prime a meritare questo ingresso nei playoff quindi la squadra veramente merita di, come posso dire, completare questo percorso che ha fatto con un ingresso ai playoff che sarebbe veramente una ciliegina sulla torta C'è da riscattare anche la sconfitta di domenica scorsa a Marignano dove il Soverato ha perso 3-0, è partito male nel primo set poi però ha avuto un rendimento increscendo sia nel secondo e soprattutto nel terzo dove la squadra poi ha perso al fotofinish indice del fatto che comunque dopo un avvio difficile si è trovata un po' come si suol dire la quadra è ovvio che in questo momento dove ci sono anche diversi elementi acciaccati non è facile perché gli impegni sono stati molti in questa stagione quindi adesso anche fisiologicamente ci può stare un calo Ma sai guarda, a Marignano sono stati molto bravi ad aggredirci l'ambiente correttissimo ma comunque molto caldo non ci ha aiutato perché comunque il palazzetto era pieno, c'era un gran tifo io dico sempre, questa non è la playstation noi giochiamo a pallavolo, uno sport in cui gli equilibri hanno un peso specifico notevole far fronte all'infortunio della Harley che comunque era una giocatrice che in qualche modo nel tempo aveva dimostrato di essere una giocatrice solida che comunque dava alla squadra degli equilibri nel sistema molto importante e sostituirla in così breve tempo non è facile faccio presente che abbiamo voluto schierare Linda Mangani in quattro dove la partita precedente era partita in due tanto di Cappello, una giocatrice di 19 anni che voglio dire si è in qualche modo adattata a cambiare ruolo più volte all'interno della stagione e che ha fatto vedere di che qualità è dotata laddove sicuramente ha cominciato faticando in ricezione però poi piano piano è stata bravissima lei insieme a tutte quante le altre a ritrovare gli equilibri e finire la partita in crescendo non è semplice, non è semplice perché a questo punto della stagione anche per le vicissitudini che abbiamo avuto con il palazzetto gli spostamenti di allenamento in questo momento specifico della stagione è veramente complicato difficile di trovare degli equilibri che sono ovviamente alla base di una buona prestazione brave le ragazze che durante la partita in un ambiente non semplice ci hanno provato un po' riammarico per questo terzo set che eravamo riusciti quasi a portare a casa e avremmo potuto chiudere prima il discorso e avremmo potuto chiudere prima il discorso